Ciao a tutti da Bonsai Italia, bentrovati e andiamo avanti con i nostri video. In questo nuovo video parleremo di un argomento molto molto importante per quanto riguarda il bonsai. Ne abbiamo parlato già nei scorsi video e ora lo affronteremo. È il discorso relativo all'estetica del bonsai. Allora, l'estetica del bonsai è un argomento molto molto vasto che va a toccare tante tante branchie per quanto riguarda il bonsai. In questo video cercheremo di dire le più importanti senza fare tanta confusione, proprio per farvi capire quali sono le cose da sapere, le principali, in modo da avere un'idea su ciò che acquistate e sugli interventi futuri da fare, da effettuare sulle vostre piante. Allora, innanzitutto ci sono delle differenze, nel senso che le piante quando vengono acquistate sia da vivaglio sia nei centri bonsai ovviamente si acquistano piante con veramente tanti tanti difetti e quindi il prezzo è relativamente basso perché sono piante da formare. Quindi anche la pianta, l'esempio che acquistate in un bonsai specializzato, comunque sia ha parecchi difetti. Quindi non pensate di comprare una pianta e di lasciarla così perché va seguita, vanno tolti tutti quei difetti che la pianta ha proprio per far sì che in un futuro possa essere esposta in una mostra. Per quanto riguarda l'argomento delle mostre, vi dico che una pianta può essere esposta in una mostra quando è praticamente quasi finita, cioè quando una pianta ha una sua struttura e i difetti sono veramente minimi, quasi inesistenti. Quindi mi raccomando che fino a raggiungere quel risultato servono veramente tantissimi anni di coltivazione. Quindi non pensate di comprare una pianta e dopo 3-4 anni portarla a una mostra. A meno che non comprate una pianta già da un professionista e allora in quel caso potete esporla nella mostra. Ovviamente la soddisfazione non è la stessa perché è una pianta non fatta da voi e quindi diciamo c'è poca soddisfazione. Allora veniamo alla nostra pianta. Allora di fronte a voi c'è una pianta di Cotonaster, Cotonaster Caduco. Il motivo per cui abbiamo acquistato questa pianta è innanzitutto riguarda il tronco, nel senso che ha un tronco molto molto bello come forma, come movimento e questo è un aspetto che ci ha indotto all'acquisto della pianta. Un altro aspetto positivo è la collocazione dei rami. Nel bonsai i rami devono stare in una certa posizione. Allora innanzitutto diciamo che quando si acquista una pianta si parte innanzitutto dalla base, quindi dal nebari. Il nebari è il piede della pianta. Allora il piede deve essere innanzitutto, le radici devono essere il più ramificate possibili, quindi deve avere un bel piede e soprattutto deve avere una conicità tale da avere questa parte qui del tronco più grande rispetto al resto. Quindi deve avere una conicità, cioè partire da la parte più grande, poi pian piano che si sale, il tronco, va man mano a sfinarsi fino ad arrivare nella parte piccale della pianta dove è più sottile. Ovviamente questa caratteristica, questa pianta qui non ce l'ha, nel senso che il tronco è praticamente della stessa dimensione quindi man mano dovremmo far sì che questa parte qui si ingrossi. Per far questo dovremmo sperare che qui da questa parte qua del tronco magari cresca qualche gemmetta farla crescere in modo tale che questa parte qui si ingrossi. Quindi questo è un trucchetto per far ingrossare la base del tronco. Altra cosa importante è che quando acquistate una pianta bonsai vi assicuro che al 90% questa parte qui del nebbari non è presente o comunque c'è qualche radice interessante ma non di più. Perché? Perché questa qui è la parte più difficile da ottenere nel bonsai. Una pianta con un nebbari molto sviluppato e già molto molto bello ha un costo molto molto alto quindi non state qui a pensare a questo perché sono cose che queste qui dovrete farle voi. Salendo un'altra cosa importante da sapere è il posizionamento dei rami principali nel senso che il primo ramo deve stare all'incirca due terzi rispetto alla base quindi deve stare in questa posizione qua quindi questo qui già va bene e soprattutto non deve stare all'interno di curve perché i rami non devono partire all'interno di rami di curve per esempio un ramo in questa posizione qui dove ho la bacchetta non può stare. Questa è un'altra cosa da sapere i rami bassi ovviamente devono avere una certa dimensione quindi questo ramo qui non va bene perché è troppo fino rispetto al tronco ovviamente non deve prendere il sopravvento rispetto alla dimensione del tronco perché se questo ramo qui è della stessa dimensione del tronco diventerà della stessa dimensione del tronco non va bene quindi deve esserci differenza tra il tronco e le ramificazioni ovviamente questo ramo qui deve essere di dimensioni più grandi perché? Perché è un ramo principale, è un ramo basso i rami più bassi devono essere quelli più grandi come dimensione e soprattutto quelli più lunghi quindi le ramificazioni basse devono essere più lunghe proprio per avere poi, andando a salire per quanto riguarda le ramificazioni proprio per avere una certa triangularità cioè ramificazioni basse più lunghe e man mano che si sale sempre più corte e proprio per avere il concetto di triangularità poi comunque sarendo lo vedremo dopodiché saliamo e vediamo che anche qui c'è un ramo molto interessante ovviamente le ramificazioni non devono trovarsi nella stessa linea cioè questo ramo qui non deve stare in questo punto qui altrimenti qui si formerà un nodo antiestetico quindi avremo un riconfiamento e la cosa non è positiva quindi mi raccomando le ramificazioni non devono stare nello stesso punto questo problema si crea sulle piante che hanno le gemme opposte quindi magari quando la pianta ha la gemma opposta avremo un ramo qui, un ramo qui e qui andrà a ingrossare quindi dovrà essere rimossa questa gemma qui dobbiamo avere sempre un'alternanza di rami ovviamente adesso sto parlando di ramificazioni principali ok salendo sulla pianta quindi avremo questa ramificazione qui che è molto interessante e poi andando sempre più su un'altra caratteristica interessante che ha la pianta sono queste ramificazioni come potete vedere c'è questa ramificazione qui che parte sempre da una curva dall'esterno quindi mai dall'interno potrebbe essere interessante qui ha una brutta cicatrice che andrà poi nel tempo rimarginata comunque ci vorrà ancora un po' di tempo però qui c'è un problema nel senso che questo ramo qua questa ramificazione qua è più lunga di questa e non va bene perché i rami che sono in alto devono essere più corti di quelli in basso quindi quest'anno andremo a fare l'intervento su questo ramo qui andando ad accorciare in primavera proprio per far crescere questa ramificazione che sta nella parte più bassa proprio perché in natura c'è questo concetto cioè i rami che sono più in alto devono essere più corti di quelli in basso e poi non devono stare sulla stessa linea perché altrimenti vanno a fare ombra sulle ramificazioni che sono in basso e quindi il ramo potrebbe andarsi a seccare quindi saliamo ovviamente più andiamo su nelle ramificazioni e più le ramificazioni devono essere più fini rispetto a quelle basse come vi ho detto in precedenza ad esempio qui c'è un altro difetto cioè questo ramo qui è più grande di diametro rispetto a questo qui e quindi non va bene quindi nel tempo questo ramo qui andrà man mano sempre di più tagliato scorciato proprio per far nascere ramificazioni più fini verso l'interno è un lavoro molto molto lungo non avere fretta perché questi lavori qua si ottengono nel tempo anche questa planta qui è piena di difetti e quindi con la potatura e la legatura possiamo ovviare a questi difetti man mano che saliamo sulla pianta poi avremo ramificazioni sempre più fini fino a che avere un proprio apice prima di parlare dell'apice voglio dirvi un'altra cosa nel senso nel senso che questi qua sono difetti che si possono eliminare e correggere facilmente come ad esempio un'altra cosa importante da fare è ad esempio sulle ramificazioni primarie ad esempio sulle ramificazioni queste qua queste che sono le ramificazioni primarie i rami non devono stare non devono partire né dalla parte alta del ramo quindi non devono andare né in alto né in basso né indietro quindi non devono andare all'interno del tronco e non devono neanche incrociarsi tra di loro ma devono praticamente partire solamente dall'esterno cioè andare solamente nella parte esterna del ramo questa è un'altra cosa importante da sapere è una cosa facile da ottenere quindi con la potatura si può ottenere una cosa che è molto difficile da correggere sono le cosiddette capitozzature che cosa è una capitozzatura una capitozzatura è praticamente ad esempio su queste pente qui se io vado a tagliare col tronchese da questo punto qui cioè a togliere tutta questa parte in alta di ramo qui avrò una capitozzatura spesso capita di comprare piante capitozzate e anche fatte molto male nel senso che i tagli non vengono neanche eseguiti nella maniera corretta dopodiché dalla capitozzatura poi qui partono dei rami però la capitozzatura si vedrà sempre quindi sarà veramente difficile poi andare a ricostruire innanzitutto un apice e poi sarà anche difficile che quella ferita lì si rimargini quindi attenzione piante capitozzate non vanno assolutamente comprate come non vanno comprate piante dove si vede l'innesto quindi piante innestate soprattutto piante da frutto come potrebbero essere albicocchi ciliegi comunque si e prunus spesso vengono innestati anche alcune varietà di melo quindi attenzione a comprare piante che non siano innestate o quantomeno che si veda poco l'innesto anche perché poi va a perdere di valore di pregio la pianta ok salendo possiamo vedere il suo apice anche qui va sistemato va sistemato perché è molto confusionario e soprattutto ha ramificazioni molto tozze e quindi andranno sistemate perché devono essere più fini delle ramificazioni che sono verso il basso un'altra cosa importante da sapere per quanto riguarda l'apice è che per costruire un apice dobbiamo individuare un germoglio il più fino e quello messo in posizione più ottimale ovvero quasi nella posizione centrale dopodiché una volta individuato tutto ciò che sarà deve stare praticamente al di sotto di quel germoglio quindi ad esempio se questo qua dove ho la bacchetta fosse l'apice della pianta tutto ciò che sta sotto deve essere più basso rispetto a questo proprio perché si deve capire che questo qui è l'apice della pianta ovviamente su questa pianta qui l'apice ancora non c'è è tutta da costruire è una pianta che abbiamo pagato pochissimo però è una pianta che secondo noi ha buone potenzialità proprio per questo movimento del tronco ora ve la faccio vedere eccola qua eccola qua è una pianta molto molto interessante perché ha un bel movimento del tronco i rami sono messi nelle posizioni abbastanza idonee quindi può essere formata abbastanza facilmente ovviamente dobbiamo innanzitutto quest'anno rinvasare perché la pianta in questo vaso qui è veramente improponibile quindi andrà messa in un vaso molto probabilmente un vaso ovale proprio per questa per la forma che ha il tronco della pianta e poi man mano con la legatura e con la potatura andremo praticamente a formare pian pianino la pianta ovviamente anno dopo anno cominceremo a formare una sua ramificazione e una sua struttura qualche ramo l'abbiamo impostato già l'abbiamo legato qualche altra ramificazione poi andrà sistemata ovviamente ci vorrà veramente parecchi anni perché la pianta abbia una sua una sua ramificazione ovviamente per quanto riguarda le ramificazioni abbiamo oltre a una ramificazione primaria che è questa qui c'è anche una ramificazione secondaria e terziaria e questo si ottiene con delle potature corrette e avendo un'esposizione veramente idonea quindi mi raccomando nel bonsai le cose da fare per far sì che la pianta abbia un suo sviluppo quindi cresca sana non smetteremo mai di dirle sono un'annaffiutura corretta un'ottima esposizione un'esposizione ottimale e poi una potatura adeguata corretta per quanto riguarda altre cose ad esempio il concime è una cosa minima quindi non è una cosa importante nel bonsai le piante si vanno concimate però le cose più importanti sono queste posizione e annaffiatura ci sono legati all'estetica anche altri aspetti ovviamente per quanto riguarda gli stili esistono vari stili nel bonsai esiste lo stile informale lo stile eretto informale a cascata a semi cascata a scopa rovesciata a zattera a boschetto ci sono veramente tantissimi stili adesso ve l'ho detto qualcuno qua e là non so se faremo un video riguardante gli stili del bonsai speriamo di sì di avere il tempo di farlo perché fra un po' vedremo cominceremo a vedere i rinvasi ormai le piante cominciano a muoversi quindi fra un pochino cominceremo a vedere qualche rinvaso e qualche potatura primaverile ovviamente faremo tutto nei tempi giusti quindi faremo il video relativo a queste operazioni solamente quando le piante saranno pronte siccome stiamo vedendo che le piante cominciano a muoversi però ancora le temperature sono fredde mi raccomando di non avere fretta e di aspettare il rinvaso va fatto sulle piante decidue quando le gemme sono completamente tutte gonfie quindi non è che vediamo due o tre gemme gonfie e andiamo a fare il rinvaso no aspettiamo che la pianta gonfi tutte le gemme dopodiché quello sarà il momento perfetto per effettuare il rinvaso la pianta ci dice proprio che in quel momento la pianta è pronta per essere rinvasata per quanto riguarda l'estetica del bonsai abbiamo detto insomma queste cose qui so che è stato un argomento molto noioso però abbiamo deciso di farlo proprio per farvi capire come comportarsi quando acquistate una pianta quindi mi raccomando quando acquistate una pianta di stare attenti a queste cose che vi abbiamo detto in modo da avere meno problemi possibili e soprattutto per formare la pianta nella maniera nella maniera più semplice possibile comunque mettetevi sempre bene in testa che la formazione del bonsai richiede veramente tantissimi anni di coltivazione e tantissima pazienza non pensate di comprare una pianta nel giro di uno due anni di formarla di impostarla perché è la cosa più sbagliata di fare bonsai ok un saluto da bonsai italia e se avete domande su questo video potete farcele tranquillamente ok ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video ciao